La stagione estiva è entrata nel vivo e la prefettura in coordinamento e in sinergia con le forze dell'ordine della provincia e anche le amministrazioni comunali ha pianificato un potenziamento dei controlli ma anche delle risorse da mettere in campo per fare in modo che sia quanto più sicura possibile. Tante le criticità, tante le attività pianificate. Facciamo una panoramica. Sì, abbiamo tenuto diverse riunioni del Comitato di Orgine di Sicurezza Pubblica coinvolgendo un po' tutte le componenti. In primis ovviamente le forze dell'ordine, la Capitaneria di Porto e i sindaci innanzitutto per necessario concorso anche delle polizie locali dove abbiamo trovato grande disponibilità e condiviso anche una strategia congiunta per fronteggiare un po' tutte le problematiche le criticità che caratterizzano il periodo estivo, soprattutto per la presenza di consistenti flussi turistici e quindi con le correlate problematiche. Abbiamo trattato vari temi, in primis con la Capitaneria di Porto e con il Roan, il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza, il controllo del mare, quindi della balneazione e della navigazione, che ovviamente con tutte le altre problematiche legate alla tutela delle acque dell'ecosistema. Controllo dei lidi, controllo delle spiagge che diventa fondamentale soprattutto per superare anche il discorso dell'abusivismo degli esercenti, abusivismo e soprattutto contraffazione commerciale che spesso sulle spiagge si verifica purtroppo costantemente. Quindi c'è stata massima disponibilità con un dispiegamento al massimo di tutti gli uomini e mezzi. Ovviamente tutto questo sarà accompagnato da controlli importanti, soprattutto nei luoghi di aggregazione e divertimento, dove c'è, nei luoghi dove c'è maggiore vitalità e vivacità sociale. Insomma parliamo della movida e tutti i fenomeni ad essa connessi. Quindi il problema della somministrazione delle bevande alcoliche fuori da certi orari, soprattutto ai minori, il problema del spaccio e uso di sostanze stupefacenti, il problema della turbativa alla quiete pubblica. Per cui abbiamo anche condiviso, c'è stata una grandissima responsabilità, senso di responsabilità e disponibilità da parte dei sindaci per omologare provvedimenti, quindi attraverso ordinanze o regolamenti, gli orari di somministrazione, soprattutto della musica, in considerazione del fatto che si vuole limitare l'emissione del sonora in determinate fasce orarie. In particolare si è considerato il fine settimana, parliamo sempre dei comuni costieri dove c'è questa maggiore vivacità sociale. Nel fine settimana ci sarà la possibilità per gli esercenti e quindi per i gestori dei locali di aggregazione del divertimento fino all'una di notte e nel centro storico, quindi nei centri antropizzati, abitati, mentre in periferia è possibile un'ora in più. Già i comuni hanno adottato le ordinanze, quindi coerentemente con quanto stabilito e definito in sede di comitato. Mentre durante le giornate feriali, settimanali, quindi dal lunedì al giovedì, l'orario è fino alle 24, quindi fino a mezzanotte. Abbiamo considerato un aspetto importante, quindi un potenziamento, un'intensificazione della presenza delle nostre forze dell'ordine, con servizi mirati per esercitare controlli. Ci sarà anche un'azione molto serrata, molto forte, soprattutto in questi luoghi. Abbiamo chiesto anche la collaborazione dei gestori di questi locali, dei luoghi del divertimento, per evitare che ci possano essere poi provvedimenti di rigore. Quindi abbiamo interloquito anche con le associazioni di categorie e ci auspichiamo una collaborazione, segnalazione di ogni situazione o episodio di criticità. E questo è un fatto molto importante perché abbiamo trovato ampia disponibilità da parte delle associazioni di categoria. Altro aspetto fondamentale che sempre attiene alla sicurezza, ci siamo preoccupati anche del problema della sanità, il problema dell'emergenza sanitaria nel periodo estivo, soprattutto in queste località. Abbiamo tenuto una serie di riunioni con tutti i responsabili, quindi i vertici della ASL, dell'azienda ospedaliera, dell'ospedale di San Giovanni Rotondo, con tutti i sindaci e con tutte le componenti direttamente interessate che possano contribuire a migliorare questo discorso dell'assistenza sanitaria H24. Quindi favorire al più possibile questa continuità assistenziale, favorire la presenza di unità operative medicalizzate per garantire l'assistenza continuativa del 118 in tutti i centri. Abbiamo quindi costruito, concepito un sistema che dovrebbe fronteggiare in maniera più che adeguata un po' le esigenze anche in relazione ai dati, alle valutazioni dell'andamento dell'anno precedente. Abbiamo inoltre insieme Vigili del Fuoco e i gestori delle strade, della società quindi autostrade, quindi della rete ferroviaria, proprio in vista delle preoccupazioni, della calura estiva, quindi dei possibili e probabili incendi, di sollecitarli e sensibilizzarli perché provvedano ad una puntuale manutenzione di tutte le aree contigue, tigue all'area al sedime stradale e quindi sensibilizzando nello stesso tempo anche i sindaci a che provvedono anche con ordinanze soprattutto ad indurre i proprietari di terreni agricoli che nella pulizia dei loro terreni bruciano purtroppo sterpaglie che molte volte determinano e quindi di usare attenzione o di evitarle soprattutto nelle aree più prossime alle strade. Così come la puntuale manutenzione e pulizia delle cunette stradali, dei canali, soprattutto perché negli ultimi tempi si stanno verificando anche questi temporali improvvisi, queste bombe d'acqua che possono determinare laddove non si rimuovano queste ostruzioni lungo i canali allagamenti con anche fenomeni molto molto più critici. In sostanza poi abbiamo toccato altri temi perché ci siamo preoccupati anche di continuare a portare avanti il progetto educativo provinciale per cui abbiamo avuto anche un incontro con tutti i vescovi delle diocesi della provincia proprio per partecipare attivamente alle importanti iniziative che loro hanno varato ed avviato con i campi scuola, i crest, dove possiamo accompagnarli quindi anche con la presenza delle forze dell'ordine a partecipazione e quindi accompagnarli in queste iniziative importanti rivolte non soltanto ai giovani ma anche alle famiglie e soprattutto agli anziani anche in considerazione un altro grande problema che si vive, le truffe agli anziani e quindi vogliamo anche essere un po' più presenti anche per esercitare questa attività informativa e di sensibilizzazione a questa fascia sensibile della popolazione preoccupandoci anche dello svuotamento delle città soprattutto in alcune città, non quelle ovviamente più nell'entroterra per cercare anche lì di garantire una presenza importante per scongiurare il fenomeno dei furti che soprattutto in estate si reiterano spesso. Insomma il vostro impegno c'è, il monitoraggio c'è, speriamo soltanto anche che la comunità sia collaborativa in questo senso. Sì, questo ciò spieghiamo, abbiamo anche con i sindaci condiviso questa opportunità di una maggiore sensibilizzazione e disponibilità e ci aspettiamo un concorso importante anche della polizia locale che ci è stato assicurato perché serve sicuramente come ausilio e supporto allo straordinario lavoro che le forze di polizia avranno e quindi garantiranno sicuramente questi servizi molto attenti e incisivi e capillari. Quali altre iniziative parlando di sicurezza sul territorio in animo la prefettura di mettere in campo? Sì, dicevo che c'è questa importante sinergia, questa collaborazione importante con le amministrazioni comunali che devo dare atto, e abbiamo una notizia appena arrivata, che hanno presentato progettualità proprio in un'ottica di potenziare il sistema di prevenzione, soprattutto per ciò che attiene alla sicurezza urbana hanno presentato delle progettualità per il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza al Ministero dell'Interno e cinque comuni sono stati riconosciuti meritevoli di questa attenzione e quindi sono stati segnati dei risorsi importanti, mi riferisco ai comuni Zapponeta, Ortanova, Carapelle, Ascoli Satriano e Lesina per un importo superiore ai 700 mila euro, quindi ciò significherà che ci sarà un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza così come abbiamo sollecitato agli stessi e quindi ha auspicato soprattutto soprattutto in considerazione di questo necessario strumento di ausilio alle forze dell'ordine in territorio anche molto molto delicati. C'è anche un'attenta valutazione dei problemi che possono insorgere soprattutto in questo periodo estivo legati alla circolazione stradale, che le nostre strade saranno intasate da flussi di traffico notevole con rischio ovviamente incidenti, per cui ci saranno un potenziamento dei sistemi di controllo attraverso la polizia stradale, sulle autostrade e sulle strade extraurbane. I comuni assicureranno invece collaborazione per quanto riguarda i tratti di strada relativi al proprio ambito territoriale. Ci sarà anche qui una importante collaborazione da parte delle aziende ospedaliere, della ASL soprattutto per quanto attiene ai controlli per la verifica delle situazioni condizionate dall'uso di alcol di sostanze stupefacenti, con la possibilità di effettuare degli accertamenti anche rapidi per verificare, per poter intervenire e sanzionare anche in maniera rigorosa i conducenti che poco poco incliniano alle regole e alla disciplina stradale. A tal proposito, proprio stamattina teniamo un'importante riunione per definire un protocollo d'intesa con la procura della Repubblica di Foggia, con l'ASL, l'azienda ospedaliera, le forze dell'ordine e la polizia stradale, il 118, per definire le modalità di intervento per effettuare gli accertamenti di cui le facevo cenno, sui conducenti, ogni qualvolta si verifica un incidente con cui ci sono anche lesioni per gli utenti della strada. Sarà interessante poi valutare, monitorando post, quelli che sono stati i risultati di tutte queste attività. Certo, certo. Saremo in grado sicuramente al termine di questa stagione estiva, sperando di dare dati sempre più confortanti, quindi nell'ospicio che tutto ciò che è stato programmato possa riuscire a fronteggiare in maniera soddisfacente un po' i problemi di cui temiamo che possano, diciamo, verificarsi. Grazie. Grazie a lei.